Ormai la guerra non si gioca più sul fatto di rimpinguare quanto più possibile i prodotti di scaffali per poi distribuirli e riuscire a far passare al cliente un'esperienza all'interno di un ambiente, che è l'unico modo che abbiamo per creare un rapporto con il nostro cliente che vada al di là di quello che sono le sfide che giustamente il futuro ci porterà, soprattutto mi riferisco all'e-commerce. Non lo dobbiamo vivere come una minaccia, lo dobbiamo vivere come un'opportunità. È chiaro che ci porterà a dover rivedere il nostro modus quotidiano di lavoro. Dire che una volta facevamo gli ipemercati, li stipevamo di merce, tanto comunque si vendevano, oggi non va più fatto quel tipo di mestiere, però non è che anche le dimensioni e i form degli ipemercati, della grande istituzione, sono oggetto di registrazione, ma soprattutto le attività all'interno sono modificate. Quindi se io oggi vado nel piammercato di Arese, scopro che mentre vado all'interno nel piammercato, c'è qualcuno che se voglio mi fa vedere come si produce della birra a chilometro zero, come si possono produrre prodotti caseali, della mozzarella, ad altre tipologie di latticini freschi, piuttosto che la lavorazione diretta delle paste fresche, piuttosto che la lavorazione diretta delle carni. Vuol dire che il cliente che viene da noi, che ha del tempo da dedicarsi e da dedicarci, ha la possibilità di fare un percorso, però effettivamente è quello che fa la differenza. E il fatto che il cliente all'interno di un ipemercato possa vivere queste esperienze, e in altre parole, per dire in maniera molto più semplicistica, stare bene, noi le vediamo anche con tutta la fase dell'attività di ristorazione a bordo degli ipemercati. Anche questa è una cosa nuova. D'Arese è esasperata, quindi lei entra nel ipemercato D'Arese, che si tratti della gastronomia, che si tratti della pescheria, che si tratti della marcelleria, che si tratti della vineria, in tutti questi reparti lei ha delle possibilità di sostare e ristorare. In quel momento ha della giornata durante tutto l'arco delle 13 ore di attività giornaliera. Cosa significa? Significa che in un luogo dove noi una volta andavamo a soddisfare un bisogno, cioè andavo a comprare la spesa, oggi vado per trascorrere il tempo. Ed effettivamente i volumi e le quantità di servizio che offriamo in termini anche ristorativi attraverso queste formule, ripeto, che toccano tutti i prodotti, la carne, il pesce, i vegetali, per i vegetariani, la cucina etnica, tutto questo e altro, ci portano a dire che effettivamente questa è una cosa molto apprezzata da nostri clienti, che quindi riescono a abbinare quello che è un momento di svago all'interno del mercato, con anche la possibilità di comprare qualcosa che una volta si chiamava spesa, oggi si chiama, tra virgolette, shopping all'interno del mercato, nel senso che una volta partivo con la lista della spesa e compravo determinati prodotti, oggi vado magari e mangio un tagliere di salone, bevevo un bianco del Trentino e dopodiché mi ricordo che mi servivano due o tre cose e le prendo a casa. Ma il motivo scatenante la visita non è più l'esigenza di soddisfare un bisogno primario, ma il fatto di andare a trascorrere la versione e questo secondo me fa molta differenza. Ecco, questo è che all'interno di un centro commerciale, che comunque è una food hall, quindi si pensa che l'ipermercato dovrebbe essere lì solo per servizio, cioè per fare la spesa. Progettualmente l'ipermercato è stato incastonato su una piazza, che noi abbiamo chiamato la piazza del food, su cui affaccia tutta la parte della food court. Quindi abbiamo volutamente messo l'ipermercato a stretto contatto con la food court, per dare la possibilità al cliente di vivere un momento esperienziale che vada alla possibilità di prendere il prodotto fresco per arrivare fino al prodotto pronto per la somministrazione. Chi vince la capacità di dare offerta? La capacità di dare offerta vuol dire che da una parte devi creare una pluralità di situazioni merceologicamente differenti, quindi di tipologie di cucina o altro, ma anche di differenti tipologie in termini di servizio, quindi tu puoi andare dalla cucina fast food, al take away, allo street food, piuttosto che al servizio al tavolo servito o alla ristorazione a free flow classica. In questo genere di ventaglio di opportunità anche l'ipermercato alla fine non fa null'altro che implementare questo tipo di offerta creando a bordo di se stesso tanti ristoranti potenzialmente è come se fosse a loro volta una food court in competizione con l'altro, in nostro mondo varie viste, abbiamo comprato un'area agricola a raggio di 500 metri, un chilometro dalla cassa centrale dell'ipermercato dove noi produciamo insalata e noi produciamo insalata che puntualmente la mattina alle 6 della mattina viene raccolta e alla 9 della mattina ha fatto quei 500 metri che la separano dal banco di servizio e il cliente la può comprare. Quella è la più bella promessa che tu fai al cliente quando gli prometti che vendi il fresco perché in Italia oggi è tra figliere di io, cazzo altro, ne sentiamo di tutti. Noi dobbiamo diventare professionisti e dobbiamo prenderci questi impegni di passare da un concetto di meri distributori a produttori, di riuscire a farlo con qualità, con professionalità, con un percorso certificato ma soprattutto di farlo davanti agli occhi dei clienti. Un modello che funziona quindi, sarà replicato? Numero alla mano, sicuramente funziona perché siamo molto molto soddisfatti di Arese. Sul fatto che venga replicato per quanto riguarda l'ipermercato sicuramente sì, noi abbiamo 27 ipermercati di gruppo e quindi con gli avvenzati ipermercati, tutte quelle che sono le tendenze e comunque la visione vengono replicate su tutte le 27, oggi Arese sulla bocca di tutti perché è un po' l'apice dei nostri ultimi sforzi di questi anni ma sicuramente poi tutti i successi e le esperienze virtuose di Arese verranno trasferite anche sugli altri ipermercati.